Intanto parte una sperimentazione che impiegherà robot teleguidati che verranno messi a disposizione degli ospedali torinesi. L'iniziativa rientra nella campagna di solidarietà digitale e di innovazione Torino City Lab, lanciata a marzo dal comune di Torino. La team mette a disposizione i robot all'interno dei reparti di onco-ematologia pediatrica dell'ospedale infantile Regina Margherita, di geonecologia dell'ospedale Sant'Anna, oltre che di Casa Ozz. Grazie ai robot i bambini, le mamme, gli operatori sanitari in possibilità di ricevere visite a causa del distanziamento sociale potranno mantenere quotidianamente un contatto con i propri affetti oppure stabilire un contatto con specialisti che operano in altre strutture.